La scuola delle donne ha già dedicato spazio a un artista che, nonostante donna, ebbe successo e ricchezza e una vita lunga di creatività e felice d'amore col suo compagno. Si trattava della russa Natalia Gonciarova che pubblicamo nel 2018. Oggi vogliamo onorare un'altra grande artista la cui vita e opera scorrono in parallelo a quelle di Natalia in virtù di quello che ho definito fattore risonanza. Si tratta di Sonia Delonay, ucraina, nata come Natalia nell'ultimo ventennio dell'Ottocento e come lei artista a tutto tondo, che esplorò la forma e il colore non solamente sulla tela ma anche e soprattutto nell'arte applicata alla quotidianità, unendo così l'espressione e il gusto artistico alla necessità di pagare i conti di casa, cosa che il marito, artista puro, non era in grado di fare. La storia dell'arte patriarcale classifica con molta sufficienza il labbro piegato all'ingiù, l'arte delle donne che esprimono la loro esuberanza creativa in molti campi. La considerano roba da femmine, spuria, superficiale. Ma noi ci agganciamo alle parole di Virginia Woolf che in una stanza tutte per sé scrisse parlando della creatività delle donne come di una forza primordiale e aggiungiamo legata all'utero che se non ha mezzo di esprimersi è esonda dalla donna stessa imprimendosi addirittura sui muri della sua stanza gabbia. La capacità multimediale caratteristica delle donne è in Sonia Delonè magistralmente espressa in quanto lei non si accontentò di dipingere quadri ma creò moda, design, arredo, scenografie teatrali e quant'altro la sua vulcanica creatività femminina le suggerisse avvalorandola con la non trascurabile capacità di monetizzare. È ovvio che all'accademia patriarcale la multimedialità femminile incuta terrore poiché in luogo di dividere e settorializzare essa unifica e crea relazioni tra le diverse forme espressive proprio come l'arte simultanea ovvero che si esprime contemporaneamente in diverse forme teorizzata proprio da Sonia Delonè. Studiò disegno in Germania e a vent'anni si trasferì a Parigi dove si iscrisse all'Accadémie della Palette. Per non tornare in Russia sposò un amico gallerista parigino e grazie a lui pote farsi conoscere e apprezzare con una prima mostra personale. Pochi anni dopo conobbe l'artista Robert Delonè che sposò dopo aver divorziato dal primo marito. Tra Sonia e Robert nacque lo stesso tipo di sodalizio artistico che ci fu pressoché contemporaneamente tra Natalia e suo marito Larionov anche gli artisti. In entrambi i casi tuttavia sono le donne quelle dalla creatività più spregiudicata e capaci con la loro arte di mantenere in attivo il bilancio familiare. Naturalmente la storia dell'arte patriarcale riconosce i lavori di Robert Delonè nelle opere di consultazione ma non quelle di Sonia che nonostante il felice debutto come pitrice essendo rimasta incinta fu in qualche modo costretta per provvedere economicamente alla nuova realtà familiare a passare a qualcosa di più remunerativo della pittura, le arti applicate. Realizzava paralumi, tende e altri oggetti di uso quotidiano che esplodevano di luce e colore secondo il suo gusto e che in poco tempo sarebbero diventate una vera e propria nuova forma di arte, il simultaneismo. Nato come accostamento di colori e forme in realtà esprimeva tutta la capacità multidimensionale e multimediale dell'artista Sonia. Dalle tele agli oggetti di uso quotidiano alla moda il passaggio fu obbligato e veloce. Sonia cominciò a creare abiti simultanei basati su questa nuova forma d'arte che furono definiti dei veri dipinti viventi. Le sue originalissime creazioni si avvalevano di ogni tipo di materiale ed erano un tripudio di colori e forme geometriche contrastanti tra loro che richiamarono nella sua boutique simultanea personaggi del calibro di Coco Chanel e Greta Garbo. Anche Sonia come Natalia si cimentò col teatro disegnando i costumi per i ballerùs di Diaghilev. In più Sonia si dedicò anche al design industriale e infine verso i 50 anni a causa della grande depressione tornò alla pittura ma fu solo verso i 70 anni che si iniziò a dedicarle delle mostre e si cominciò a riconoscerla come artista. In ulteriore rapporto parallelo con Natalia anche Sonia visse bene e a lungo. Lasciò il corpo ultra novantenne e a noi resta un'enorme quantità di opere che non smettono di affascinarci in ogni possibile ramo creativo. Grazie a tutti.